Mario Calzolari, 57 anni, ex area manager, due figli, vive ad Avenza con la compagna. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle dopo 5 anni da attivista per dare il suo contributo al cambiamento della città, riprendendo un impegno sociale che lo ha visto in passato tra i fondatori del centro documentazione Handicap. Sogna con De Pasquale Sindaco di contribuire a portare nell'amministrazione un metodo condiviso di gestione delle risorse per trovare soluzioni adatte a migliorare la qualità di vita dei cittadini.